salve a tutti e benvenuti a questo nuovo tutorial oggi parleremo di una funzione particolare di windows xp ossia un creatore di pacchetti auto estraenti ovviamente questi pacchetti sono fatti interamente da noi o quasi vengono utilizzati di solito nelle mod dei giochi oppure quando dobbiamo creare una crack per altri creiamo questo programma pacchetto auto estraente che si che porta questi file da noi scelti nella cartella scelta dall'utente per aprire questo questo programma dobbiamo cliccare su esegui scrivere i express.exe e cliccare ok si apre il wizard scegliamo di creare un nuovo pacchetto auto estraente conviene la seconda opzione perché la prima richiede un comando di installazione che solo per essere solo per gli esperti clicchiamo extract file only e clicchiamo avanti qui decidiamo un titolo mettiamo prova mod a rimanere in campo delle mod questo è una piccola finestrella che si affaccia prima della vera e propria installazione possiamo mettere qualunque cosa tipo ciao questo è un programma di installazione della mod del gioco x clicchiamo avanti display a licenza in questo punto noi possiamo creare su un documento di testo una licenza tanto per divertirci che non è che ci sarebbe una licenza possiamo scegliere se farla affacciare o no prima dell'installazione mettiamo che io ho creato la mia licenza per fare un lavoretto più più serio e mettiamo una licenza qualsiasi clicchiamo avanti adesso aggiungiamo i file mettiamo che io devo aggiungere questo questo documento di testo e quest'altro documento di testo clicchiamo avanti show window la finestra come deve essere nascosta minimizzata massimizzata o normale io lascio default che anche raccomandato clicco avanti quando ho finito l'installazione possiamo scegliere se il programma si chiude o se mostra un'altra finestrella che dice che il processo è andato a buon fine ad esempio l'installazione possiamo scrivere è andata a buon fine fine clicchiamo avanti adesso dobbiamo dare semplicemente il nome del pacchetto clicchiamo browse scriviamo prova mod clicchiamo su salva e clicchiamo queste opzioni le lasciamo così e clicchiamo avanti adesso possiamo scegliere se salvare un documento apposta per questo programma che così la prossima volta che lo apriamo ha già le informazioni che abbiamo messo poco poco fa come ad esempio il prompt iniziale la licenza già le ha predefinite quindi basta che noi cambiamo i file se dobbiamo cambiare solo i file evitando di farci rifare tutto qui possiamo possiamo decidere se salvarlo o non salvarlo io adesso non voglio salvarlo perché è una prova clicco avanti clicco ancora avanti e crea il pacchetto fine eccolo qui come potete vedere se io ci clicco ecco che esce la finestrella ciao questo programma è di installazione in modo gioco x clicco sì poi voi cambiate perché essendoci sì e no possiamo scriverci vuole continuare durante l'installazione sì no questa è la licenza accetti o no sì qui digitare il percorso digitiamo il percorso dove vogliamo i file lo mettiamo che lo vogliamo dentro alla cartella giromancer clicchiamo ok l'installazione è andata a buon fine ora se io vado a vedere dentro la cartella giromancer ho questo e questo file che avevo messo nel pacchetto questo può essere utilizzato questo piccolo programma per creare delle piccole appunto mod delle crack che magari necessitano di una copia di alcuni file determinati all'interno di una cartella ben definita di un gioco di un programma di un qualcosa quindi se volete divertirvi a fare questi programmini nel senso c'è c'è il tempo da perderci potete fare davvero dei bei lavoretti per questo tutorial è tutto arrivederci al prossimo i